Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo assaggiamo. Oggi per voi ho una nuova bevanda da Daiso e si tratta di questa cosa qui, la F&N Ice Cream Soda. Io non so che cosa esattamente aspettarmi, potrebbe essere come una bevanda che ho già assaggiato, che era la Creaming Soda, che sapeva di vaniglia però in questo caso non so esattamente che cosa voglia dire, Ice Cream Soda, quindi gelato potrebbe essere, ma non potrebbe essere a qualsiasi gusto. Adesso apriamo e mi sono munita di bicchiere per versare, è trasparente, come vedete. Sì, sa di vaniglia, in effetti è probabilmente la brutta copia della Creaming Soda. Assaggiamo. Non è male. Cioè il sapore sa di vaniglia appunto non è un sapore proprio particolarissimo, diciamo che facendo un po' il confronto con la Creaming Soda forse è meglio quella, anche perché comunque sia ha un bel colore rosa, quindi è un pochino più particolare forse. In ogni caso comunque sia è buona questa, non è... Confrontandola con la Sarsi che arrivava comunque da Daiso, sicuramente è molto meglio se vi prendete una lattina di queste rispetto alla Sarsi, anche perché la Sarsi ha un profumo che ha un odore veramente nauseante. Se avete visto il video sapete la reazione che ho avuto quando ho tentato di annusarla. Comunque sia consigliata questa Ice Cream Soda. Se volete, ovviamente vi dico, cioè, non... Da Daiso la roba non costa tantissimo, soprattutto la roba da mangiare. E consigliata, se volete potete prendervela, se trovate un Daiso dalle vostre parti. Io vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutti i miei social per seguirmi in questa avventura. Se siete interessati anche ad altri assaggi o se siete anche interessati al fatto che sto girando l'Australia. E poi comunque continuerò a viaggiare anche quando torno in Italia. Vi ricordo che potete lasciare un like se il video vi è piaciuto. Potete anche condividerlo con i vostri amici per far conoscere cose strane da mangiare e da bere all'estero o da trovare in Italia. E potete commentare se avete qualche curiosità su di me o se volete consigliarmi qualche cosa da mangiare o da assaggiare. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!